Sì, sono così in fretta che viene anche male la forza. Ma andando alla bovia. Cominci a muovere, a dilatarsi il mare via. Giro, ti tiro, ti vai di là. Oh, ti fai a tirare. Oh, no. Oh, no. È una cosa. Allora, no. Ma la cinta. Che devo fare? Ma perché dobbiamo andare di qua? Non mi fa fare. Non mi fa fare. Non mi fa fare. Non mi fa fare. Non mi fa fare? È bella. C'è il foglio ci si pianta. È bella. È buona. Grazie a tutti.